Bene, cari amici, stamattina avevo pensato tante cose, avevo programmato già il mio quartino per stasera, ma la vita non ha programma perché la vita non è un paninsesto. Oggi pomeriggio ho celebrato messa con Don Franco, sono andato al negozio di frutta e verdura, guante, mascherina, quindi patate, arance, noci, in equilibrio precario fino alla macchina, ma ce l'ho fatta. Volevo partecipare alla preghiera del Papa, lo so che tanti di voi l'avete seguita e quindi direte che ve ne parlo a fare. E invece ve ne parlo, ho cambiato il mio programma e ho deciso di raccontarvi brevemente, anche in meno di un quarto d'ora, quello che ho visto, perché sono sicuro che tutti abbiamo guardato la stessa cosa, ma non allo stesso modo. Questo piccolo spazio purtroppo permetta a uno solo di parlare, sarebbe bello se poteste parlare anche voi. Pertanto vi racconto quello che ho visto io, e chissà che non sia anche quello che avete visto voi. Io ho visto una piazza affollata, giovani, vecchi, fanciulle, che intonavano canti e facevano danze. Attorno a quella figura bianca, un punto sospeso, una domanda per il mondo. E con loro ho visto tutti gli ammalati, di corpo e di spirito, e tutti quelli che si prendono cura di loro, del loro corpo e del loro spirito. C'era chi piangeva e c'era chi rideva. Ho visto un popolo immenso, unito dalla stessa attesa. Non è stato facile farmi spazio tra mille pensieri che mi prendevano in quel momento, ma poi la mente si è fermata. Forse perché mi è arrivato alle narici un profumo di incenso inebriante, al punto che mi ha preso un senso di svenimento, una specie di vertigine. Era resina di rosa, cannella, cinnamono, era storace, era santità, di sicuro. A questo punto ho visto un uomo appeso a una croce, solo, lasciato fuori, bagnato dalla pioggia, piegato e derelitto nello spasimo della sua morte. E a poca distanza, come tra il Golgotha e il giardino di un sepolcro, lui stesso, di nuovo. Stavolta invece vivo, sì, lui stesso, potente, luminoso. Un pezzo di pane, inutile agli occhi del mondo, ma pane di vita eterna per chi ne sa perforare la trasparenza divina. In mezzo, tra lui morto e lui vivo, c'era quella stessa figura bianca, traballante, che mi sembrava una culla per come camminava. Ma io l'ho visto giovane, fiero, un giovane eroe con una piccola fionda, uno che non glielo daresti a guardarlo tutto questo coraggio. Ma cos'è il coraggio, se non quell'agire del cuore che anche senza fare nulla confonde la forza dei sapienti e degli intelligenti. E chissà quanti intelligenti e sapienti sono scappati via, non potendo sopportare tanta umiltà barcollante. Ma il cuore sa tutto e il coraggio è arrivato, ha raggiunto come un ultrasuono i meandri spocchiosi della nostra mente, i nostri labirinti e i sentieri tortuosi della nostra anima. E li ha raddrizzati, facendoli diventare una strada e una porta stretta attraverso cui ancora oggi ci si salva. Duemila anni fa quel giovane tra il calvario e il giardino si chiamava Giovanni. In questi giorni la storia gli ha dato il nome di Francesco, perché un papa non è solo Pietro, è anche Giovanni. Dalla croce al giardino deve infatti anche oggi correre al sepolcro per vedere i teri mortuari attraversati dalla luce e lasciare poi che sia Pietro a raccontarlo. Ma non è mancata certo lei all'appuntamento. L'altra invisibile e silenziosa protagonista c'era anche lei sotto la croce. Stabat mater, la madre, in piedi, eretta, incrollabile, tenera e forte, piccola, eppure, come dice la tradizione più ampia dei cedi. E in quello scroscio d'acqua ho sentito, e spero di non averle sentito solo io, ho sentito davvero chiare alcune parole appena appena sussurrate. Madre, ecco tuo figlio. Figlio, ecco la tua madre. E il figlio e la madre si sono abbracciati, non me ne siete accorti. In quel momento la madre ha allargato le sue immense braccia. Le ha allargate seguendo l'andamento delle colonne della piazza, un abbraccio enorme che ha raggiunto i suoi figli di tutto il mondo, madre di tutti, degli ultimi, ma pure dei potenti della terra, che magari si sentono Dio, ma sono piccoli e insignificanti, e non si rendono conto che basta niente lo sguardo tenero di una madre addolorata per farli cadere dai loro piedi stagli. E poi, l'avete sentito sicuramente insieme a me, un lungo silenzio, intrecciato di tutte le nostre parole mute. E poi le campane e le sirene hanno suonato insieme. Morset vita, duello, conflixere, mirando. La morte e la vita hanno cominciato a combattere l'una contro l'altra. Un duello terribile davanti ai nostri occhi. Ma sono rimaste infine le campane. Almeno io ho sentito solo quelle. Dux vite mortus, regnat vivus. Il Signore della vita, morto, ora regna vivo. E a questo punto loro due insieme, il Cristo e il suo vicario, hanno guardato insieme il mondo. E il mondo è stato benedetto. In ginocchio tanti si sono lasciati raggiungere da un fiume immenso di misericordia, di tenerezza, d'amore. Qualcuno ha pianto. È arrivata una ricchezza che nessun male sulla terra, visibile o invisibile, potrà mai distruggere. Un soffio, un respiro di vita che niente potrà mai spegnere. Ecco, ora quella benedizione rimbalza da cuore a cuore. Continua a propagarsi. Domani deve diventare sguardo, proposito, coraggio, anche per noi. Ecco, volevo che stasera quella benedizione, quella benedizione potesse rimbalzare ancora. E non sono riuscito a fare diversamente. Scusate. E poi, tornando a quella piazza gremita, ad un certo punto la pioggia battente è diventata un lunghissimo applauso. Non l'avete sentito? Io lo sento ancora. Pace e salute a tutti, credenti e non credenti, come vuole il Papa. E alla prossima settimana.